Cari colleghi e cari colleghi, come purtroppo sapete, lo scorso primo luglio, in una brutale azione terroristica a Dhaka, in Bangladesh, hanno perso la vita 20 persone, di cui 9 nostri connazionali. In questo momento di sgomento e dolore il nostro Paese deve anzitutto stringersi attorno a coloro che in questa atroce circostanza hanno perso familiari e amici. Allo stesso tempo è necessario reagire con determinazione e fermezza a chi attenta ai valori fondanti della nostra convivenza pacifica, nella convinzione che nessuna ideologia o credo religioso possano giustificare questi barbari attacchi a persone inermi. Ricordo che la stessa ferocia fondamentalista ha colpito negli ultimi giorni la città di Baghdad, provocando in vari attentati oltre 200 vittime, tra cui molti bambini e altrettanti feriti. Ed appena una settimana fa, lo ricorderete, in quest'Aula abbiamo commemorato le vittime della strage dell'aeroporto di Istanbul. Era il 28 giugno. Colleghi e colleghe, il terrorismo non ha frontiere, colpisce a ogni latitudine e nessuno oggi può ritenersi al sicuro. È un fenomeno che potrà essere combattuto e sconfitto soltanto se la comunità internazionale unirà le forze in una battaglia comune contro la barbarie di matrice islamista, usando gli strumenti più idonei ad isolarla, a bloccarne i canali di finanziamento e l'approvvigionamento di armi. È del tutto evidente che i singoli Stati non sono in grado da soli di assicurare sicurezza e stabilità e che occorre invece attuare in seno all'Unione Europea una effettiva cooperazione giudiziaria e di polizia, in particolare nell'attività di intelligence, di indagine e di repressione del terrorismo. Desidero esprimere, a nome di tutta l'Assemblea, in senso della nostra più sincera vicinanza e partecipazione al dolore delle famiglie e dei nostri connazionali caduti a Dacca e di quelle di tutte le altre vittime del terrorismo.